Offrire agli studenti un'importante opportunità di crescita, istituzionalizzando un ruolo attivo e di responsabilità per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, riguardante la prevenzione e il controllo della sicurezza nelle scuole e lo sviluppo della cultura della sicurezza in generale, tra i coetanei, attraverso la sperimentazione della figura del responsabile degli studenti per la sicurezza, Security Young Manager. Sono questi gli obiettivi di un progetto promosso a livello nazionale da cittadinanza attiva e al quale ha aderito l'Assemblea Saccenze del Movimento, guidata dal coordinatore Gero Maggio. Si tratta di un corso base rivolto agli studenti, denominato non a caso Responsabili Studenti Sicurezza, messo a punto dal settore scuola di cittadinanza attiva e che si realizza grazie ad una collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile. Già sperimentato con successo negli anni passati in diverse regioni d'Italia, il progetto quest'anno fa tappa in Sicilia e a Sciacca coinvolgerà la scuola media Agostino Inveges, dove da domani partirà il corso che prevede quattro incontri con una prima classe di 20 studenti e che si concluderà entro il mese di maggio. Svolgeranno il ruolo di formatori degli studenti due volontari di cittadinanza attiva di Sciacca che hanno seguito un corso di formazione a Palermo, dove hanno acquisito gli strumenti didattici utili per la preparazione degli allievi e saranno affiancati da due docenti volontari del Movimento. Grazie. 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 Grazie.